I gruppi di centrosinistra e regioni hanno denunciato ritardi del cura Abruzzo 1 e 2 con solo 25 milioni erogati sui 96 promessi, nemmeno il 30% con 549 milioni di fondi europei che attendono invece di essere usati, hanno detto. Ritardi che per i consiglieri regionali presenti a Palazzo dell'Emiciclo non possono essere attribuiti alla pandemia. Il centrosinistra non ha risparmiato critiche alla campagna vaccinazione. Hanno parlato di deficit sanitario di 24 milioni di euro in 24 mesi relativi alla gestione 2020 del presidente Marsilio. Nello specifico il cura Abruzzo che avrebbe dovuto sostenere le imprese compie un anno, rilevano i consiglieri. Il cura 1 prometteva 110 milioni di euro non erogati, 60 milioni. Il 2 prometteva 88 milioni non erogati, 60 per un totale di 200 milioni quasi promessi e 121 milioni non erogati. Al palo ci sono fondi importanti sia nel cura 1 che nel cura 2. E sui fondi europei, hanno ribadito, non si è fatto meglio. La programmazione è ferma e tra vari programmi operativi regionali, piano sviluppo rurale, fondi Feser e altro, non sono stati erogati ben 549 milioni di euro. Questo è il grande inganno di Marsilio e della sua giunta, che un anno fa promisero agli abruzzesi alla prima ondata che con un clic avrebbero avuto le risorse e dopo un anno il 70 per cento delle imprese non ha visto nulla. Un'aggiunta sempre più nel caos della programmazione, come ha dimostrato anche il piano per le vaccinazioni, dove c'è un saltafila con uno stravolgimento dei criteri, imprese ferme per quanto riguarda i ristori, beffate da ordinanze restrittive le più lunghe di tutto il Paese e ancora una volta litigi interni alla maggioranza. Nonostante abbiamo vissuto un anno e mezzo ormai di pandemie e di conseguenze economiche sulla salute, continuano a litigare solo sulle nomine, sulle poltrone. Un Consiglio regionale ormai fermo da quattro mesi, perché non c'è nessun tipo di accordo dentro la maggioranza più disastrosa della storia della Regione. Grazie. 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 Grazie.